bene allora come sapete leggiamo oggi il canto 19 del paradiso come il nostro solito leggiamo tutto di seguito poi ricominciamo spiegando facciamo una pausa un certo punto finché mi possiate mandare le vostre domande sulla chat e poi continuiamo parea dinanzi a me con l'ali aperte la bella immagine che nel dolce frui liete faceva l'anima concerte parea ciascuna rubinetto in cui raggio di soli ardesse sia acceso che nei miei occhi ritrangesse lui e quel che mi conviene ritrarte stesso non portò voce mai ne scrissi incostro ne fu per fantasia già mai compreso che io vivi e anche udì parlar lo rostro e suonarne la voce io e mio quando era il concetto noi e il nostro e cominciò per esser giusto e pio son io qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a disio e in terra lasciai la mia memoria si fatta che le genti li malvagie commendan lei ma non seguon la storia così un sol calore di molte prage si fa sentire come di molti amori usciva solo un suon di quell'immagine con dio appresso o perpetuo i fiori dell'eterna letizia che pur uno parermi fate tutti i vostri odori solvetemi ispirando il gran digiuno che lungamente mi ha tenuto infame non trovandogli in terra cibo alcuno ben so io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio che il vostro non la prende col belame sapete come attento io mi apparecchio ad ascoltar sapete qual è quello dubbio che mi digiunco tanto vecchio quasi falcone che esce del cappello muove la testa e con l'ali si plaude voglia mostrando e facendosi bello mi dio farsi quel segno che di laude della divina grazia poi cominciò colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto non potè suo valore si fa rimpresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanessi in infinito eccesso e ciò fa certo che il primo superbo che fu la somma ad ogni creatura per non aspettar l'uno e cadde acerbo e quinci a par con i minor natura e corto recettafolo a quel bene che non ha fine e se con sé misura dunque vostra veduta che convene essere alcun dei raggi della mente di che tutte le cose son ripiene non può da sua natura esser possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che l'è parvente però nella giustizia sempiterna la vita che riceve il vostro mondo come occhio parlo mare entrosi interna che ben che dalla prota vege il fondo in pelago non vede e non di meno è lì ma c'è la lui l'esser profondo l'umenonese non viene dal sereno che non si turba mai anzi è tenebra o d'ombra della carne o suo veleno assai temò aperta la tebra che tascondeva la giustizia viva di che facei questi occo tanto crebra che tu dicevi un uomo nasce alla riva dell'indo e cui vi non è chi ragioni di cristo né chi lega né chi scriva e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede senza peccato in vita o in sermoni muore non battezzato e senza fede ov'è questa giustizia che il condanna ov'è la colpa sua se non crede or tu chissè che vuoi sedere a scranna per giudicare di lungi mille miglia con la veduta corta ad una spanna certo a colui che me cosa sottiglia se la scrittura sopra voi non fosse da dubitar sarebbe maraviglia o terreni animali o menti grosse la prima volontà che è da sé buona da sé che è sommo ben mai non si mosse o tanto è giusto quanto a lei consuona nullo creato bene a sé la tira ma essa radiando lui cagiona quale sovresso il nido si rigira poiché appasciuti la cicugna i figli e come quel che pasto la rimira o tal si fece e si levai i cigli la benedetta immagine che l'animo vea sospinte da tanti consigli roteando cantava e dice a quali sono le mie note a te che non le intendi tale giudice eterno a voi mortali poi si quietaro quei lucenti dicendi dello spirito santo ancora nel segno che fa i romani al mondo reverendi esso ricominciò a questo regno non salì mai chi non credetti in cristo né pria né poi che il si chiavasse al legno ma vedi molti gridano cristo cristo che saranno in giudizio assai men proprio a lui che tal che non conosce cristo e dai cristiani dannerà l'etiope quando si partiranno i due collegi l'uno in eterno ricco e l'altro in opere che poranno dirgli persi ai vostri reggi come vedranno quel volume aperto nel qual si scrivono tutti i suoi dispregi lì si vedrà tra l'opere d'alberto quella che tosto muoverà la penna perché il regno di praga fia diserto lì si vedrà il duol che sovrasenna induce falseggiando la moneta quel che morrà di colpo di potenna lì si vedrà la superbia che asseta che fa lo scotto e l'inghilese folle sicché non può soffrire dentro a sua meta vedrassi la lussuria il viver molle di quelli di spagna e di quelli bohème che mai valor non conobbe ne volle vedrassi al ciotto di jeusalemme segnata con un i la sua bontate quando il contrario segnerà un m vedrassi l'avarizia e la viltate di quei che guarda l'isola del foco ove anch'ise finì la lunghe tate e a dare ad intender quanto è poco la sua scrittura fia lettere mozze che noteranno molto in parvo loco e parranno a ciascun l'opere sozze del barbe del fratel che tanto egregia nazione due corone han fatte bozze e quel di portogallo e di norvegia lì si conosceranno e quel di rascia che mali ha visto il conio di vineggia o beata ungherine se non si lascia più malmenare e beata navarra se sarmasse del monte che la fascia e crederde ciascun che già per arra di questo nicosie famagosta per la lor bestia si lamenti e garra che dal fianco dell'altro non si scosta allora vi ricordate che nel canto che abbiamo letto la settimana scorsa Dante era salito insieme a Beatrice al cielo di Giove nel quale le luci dentro le quali Dante vede ogni anima avevano conformato volando e soffermandosi in diversi segni una frase diciamo proveniente dalle sacre scritture che attraverso le diverse lettere aveva richiamato alla predilezione della giustizia che dove dovrebbero avere coloro che governano il mondo e essendo si soffermate queste luci formando l'ultima M di Terram la M della monarchia poi avevano volato più volte in modo da far diventare queste M un'aquila vero che è appunto il simbolo dell'impero romano quell'istituzione che Dante considerava provvidenziale che appunto aveva tra i suoi scopi garantire nella misura del possibile la giustizia cioè riflettere la giustizia divina che è perfetta in un modo imperfetto in terra perciò appunto in questa stella di Giove la coinfluenza predomina negli spiriti giusti e l'aquila dell'impero la protagonista quindi il canto 19 si apre appunto con quest'immagine dell'aquila nominata al secondo verso come la bella immagini che nel dolce frui liete facevano l'anime consorte cioè un infinito latino che vuol dire fruizione veata facevano liete le anime conserte cioè intrecciate tra di loro mettendosi insieme allora Dante vede questa bellissima immagine dorata diciamo dell'aquila con le ali aperte che diciamo sembra oro sull'argento che caratterizza Giove e al verso 4 parea ciascuna rubinetto cioè un piccolo rubino in cui il raggio di sole ardesse così intensamente così acceso che nei miei occhi rifrangesse lui cioè Dante vede che ognuna delle piccole luci che conformano l'aquila sembrano rubini accesi da un raggio di sole che facessero ognuna essere un sole davanti agli occhi di Dante e ora diciamo il Dante scrittore interrompe questa narrazione diciamo che era ubicata sul punto di vista del pellegrino per condividere con noi lettori la sua difficoltà di scrittore al verso 7 e quel che mi conviene ritrarte steso cioè quello che io devo ritrarre proprio ora cioè appunto come cominciò a parlare l'aquila non portò voce mai né scrisse incostro né fu per fantasia già mai compreso cioè quello che io devo scrivere ora dice Dante non lo dice mai una voce orale né lo scrissi un inchiostro quindi nessuno scrittore né addirittura nessuna fantasia cioè nessuna mente con la sua facoltà di dare un senso a ciò che i sensi gli porgono ha mai concepito quindi ci sta preparando per qualcosa di nuovissimo come esperienza cognitiva e di conseguenza ovviamente come esperienza raccontata da qualcuno verso decimo che io vidi e anche udì di parlarlo rostro e suonarne la voce e io e mio quando era nel concetto e noi e nostro allora già che cioè è nuovissimo quello che sto per dire già che quello che io vivi e che udì era che il becco il rostro formato da questi puntini di luce parlava da questa abbastanza eccezionale no perché noi sappiamo che l'aquila è un'immagine conformata dalle luci vero ma parlava uno potrebbe dire va bene siccome le anime sono dentro queste luci potevano parlare corarmente però quello che Dante sente e vede è che nella voce dell'aquila suonava io e mio cioè l'aquila parlava in prima persona del singolare quando ciò che si concepiva era noi e nostro quindi prima persona plurale visto che l'aquila è conformata da innumerevoli luci questo è diciamo molto significativo vero perché vi ricordate che nel canto scorso Dante aveva detto in un modo molto sintetico che le aquile che nascono nei nidi della terra non sono che la rappresentazione diciamo derivata dal da questo archetipo aquila che lui vide nel paradiso quindi in qualche modo aveva già scomodato questa molteplicità che c'è nel mondo che deriva dall'unità che è in paradiso questa è è l'aquila che da origine diciamo da cui derivano le aquile del mondo e a proposito di quell'immagine avevamo detto come si suggerisse che la giustizia umana deriva dalla giustizia divina che è appunto obiettivo di questo impero che l'aquila simboleggia il fatto che quest'aquila conformata dalle diverse anime parli in prima persona del singolare enfatizza l'unità della giustizia divina che è sempre vista da Dante siccome anche Dio è uno l'unità come superiore alla molteplicità e infatti una delle ragioni per cui Dante considera che l'impero è l'istituzione provvidenziale voluta da Dio per guidare l'uomo verso la felicità è appunto la sua unità perché Dante come ricorderete dai tanti passaggi di altri canti e rivedremo alla fine di questo canto deplora la diversità delle autorità che sono in terra che litigano tra di loro è che interrompendo l'unità dell'impero allontanano la giustizia del mondo dall'unità della giustizia divina da cui dovrebbe derivare quindi il fatto che nell'aquila convivano la diversità delle luci con una voce unica che parla in prima persona singolare tende diciamo a sottolineare l'importanza dell'unità di quelli che sono in terra che sono tanti ma che dovrebbero tutte derivare appunto dal dalla istituzione imperiale che è una vero? Allora il verso 13 comincia appunto il Dante scrittore a riprodurre il discorso che sentì nella voce dell'aquila e cominciò per esser giusto e pio sono io qui essaltato a quella gloria che non si lascia vincere ad isio e in terra lasciai la mia memoria si fatta che le genti li malvagie commendan lei ma non seguono la storia. Allora vedete che parla l'aquila non solo in prima persona singolare ma anche al maschile perché parla a nome dell'impero della monarchia no? Allora dice sono tutte queste anime che parlano in prima persona ognuno di sé ma che conformano un discorso imperiale. dicono che appunto per il fatto di essere stato giusto e pietoso sono effettivamente le due caratteristiche di Enea che è non a caso il personaggio troiano che secondo quello che abbiamo visto fin dal primo canto dell'inferno Dante ritiene l'origine provvidenziale dell'impero e che sono poi le azioni anche di Dio nel mondo no? La giustizia e la misericordia la pietà per essere giusto e pio sono io dice l'aquila a nome dell'impero esaltato in quella gloria divina che nessun desiderio supera e cioè in quella gloria divina che appaga ogni desiderio e lo eccede quindi che non si lascia vincere da nessun desiderio. Questa diciamo perifrasi per nominare la gloria del paradiso è molto significativa perché come vedremo tra un po' Dante in qualche modo esprimerà attraverso una domanda un suo desiderio che sembrerebbe di divergere dall'apparente giustizia divina e cioè Dante porrà una domanda che interessa l'apparente ingiustizia della mancata salvezza dei cosiddetti infedele negativi cioè quelli che semplicemente non peccarono ma che la loro mancanza e la mancata fede cristiana e nell'esprimere questo sembrerebbe di stare anche manifestando un suo desiderio che anche i buoni non cristiane fossero accolti in paradiso e appunto a proposito di questo desiderio inespresso sembra di essere significativo che la gloria del paradiso venga caratterizzata qui all'inizio del canto come quella che soddisfa ogni desiderio come se si preparasse il lettore e il Dante Pellegrino a rassicurare che tutti i dubbi che abbiamo in terra tutti i desideri che non si avverano anche desideri di capire una apparente contraddizione o imperfezione nella giustizia nel paradiso saranno totalmente appagati che è appunto dove sono queste anime e aggiunge al verso 16 l'aquila e in terra lasciai una tale mia memoria che i malvagi ne parlano bene la commendano perché tutti parlano bene dell'impero romano ma non seguono la storia non seguono le tracce dell'impero cioè è la prima delle tante diciamo invettive che ci saranno nel canto in questo canto in questo caso molto breve in diretta alla situazione del mondo che è discordante dal piano divino cioè il fatto che magari diciamo nelle città si esalta la memoria dell'impero ma che poi le città si oppongono a quest'unità difendendo l'autonomia dei comuni vero? che è una delle insomma delle delle difficoltà che secondo Dante sta trovando il mondo cioè la volontà di autonomia da parte delle città che impedisce l'unione sotto l'imperatore e allora finite queste parole dell'aquila al verso 19 il Dante poeta ci dà un'immagine diciamo sinestesica per rendere questa cosa così udita cioè che una pluralità di voci stia diciamo esprimendosi al singolare allora al verso 19 così un sol calor di molte brage si fa sentir come di molti amori usciva solo un suono di quell'immagine cioè nello stesso modo in cui dai molti amori cioè queste anime chiamate come amori chiaramente di carità usciva un suono solo nello stesso modo succedeva questo come noi vediamo sentiamo percepiamo nel mondo che un solo caldo emerge da molte braccia diverse ma una un'ottima immagine che rende l'unità che deriva dalla molteplicità e a questa immagine che riguarda la temperatura al verso 22 il Dante pellegrino dice cioè dice a voce davanti all'aquila un'altra immagine anche questa stupenda forse più bella ancora di quella che come poeta ha diciamo predetto nella terzina precedente che è quello invece del profumo verso 22 un dio appresso o perpetui fiori dell'eterna letizia che puruno parermi fate tutti i vostri odori cioè in questo vocativo Dante si riferisce alle anime come fiori perpetui dell'eterna letizia del paradiso che fanno sentire a Dante come uno solo tutti i profumi loro questa è anche questa un'immagine molto bella e molto efficace per rendere la diciamo coesistenza del plurime con l'unità ma che ricorda anche il bellissimo profumo dell'Eden non so se vi ricordate che Dante vedendo questi fiori nel paradiso terrestre aveva sentito una miscela di profumi che proveniva appunto da tutte queste piante diverse alcune delle quali non conosciute in terra e questa associazione può essere diciamo significativa proprio perché la funzione dell'impero secondo la monarchia di Dante è appunto cercare di ripristinare certamente in una misura imperfetta la felicità del mondo che i primi parenti Eva e Adamo avevano rovinato col peccato originale quindi c'è nella visione politica di Dante una contiguità diciamo teorica tra il simbolo del paradiso terrestre e il simbolo dell'impero perché l'impero è appunto uno dei due rimedi che Dio manda al mondo dopo il peccato originale per offrire agli esseri umani la possibilità di recuperare nel caso dell'impero la felicità perduta dall'Eden che è comunque irrecuperabile perché appunto ha bisogno di una legge come quella dell'impero ma che sono entità insomma contigue perciò avevamo detto quando leggevamo il purgatorio che è coerente il fatto che Virgilio che è stato il cantore dell'impero accompagni Dante fino all'Eden perché l'impero e il paradiso terrestre condividono questa simbologia della felicità possibile nel mondo però allora dopo questo vocativo Dante si rivolge a loro approfitta del fatto che ha davanti a sé questo simbolo di giustizia per fare una domanda che come adesso dice ha dentro di sé da molti anni allora cioè risolvetemi questo dubbio che mi ha affamato così lungamente senza che in terra la filosofia diciamo la saggezza umana mi abbia fornito delle soluzioni ora qui il Dante scrittore fa una cosa stupenda no? perché il pellegrino comincia a esprimere davanti all'aquila questo suo bisogno di risolvere un digiuno cioè una sete, un dubbio che porta da molto tempo ma non lo esprime non lo esprime il Dante personaggio come altre volte non esprime diciamo quello che ha bisogno di sapere perché si fida che le anime lo stiano vedendo in Dio meglio ancora di quanto lui lo possa esprimere ma il Dante scrittore non solo diciamo mette nel Dante pellegrino questo silenzio ma addirittura quando l'aquila comincerà a rispondere ci metterà molti versi prima di mettere nelle parole di Dante il suo dubbio cioè solo ai versi settante seguenti e siamo ancora diciamo al verso 27 quindi mancano molte terzine affinché noi lettori sappiamo di quale dubbio si tratta e certamente diciamo questa strategia del Dante scrittore è coerente con la sua volontà di farsi accompagnare come pellegrino in questo tragitto di apprendimento è diciamo terapeutico vero? perché lui insomma invita noi ad accompagnarlo nella diciamo sempre nel punto di vista del viaggiatore senza anticipare delle cose e quindi è come se ci proponesse lo scrittore attraverso questo ritardamento del problema che noi dobbiamo aspettare è come se ci proponesse di riprodurre nella nostra lettura l'ansia così lunga questo lungo digiuno che il personaggio qui sta esprimendo perché anche noi dobbiamo avere la pazienza di leggerci tutte le parole dell'Aquila finché lei vorrà appurre il dubbio di Dante che è stato annunciato adesso allora continua Dante al verso 28 penso io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio che il vostro non la prende con velame cioè io so bene perché appunto gli è stato detto da Kunizza che in un altro cielo cioè che nel cielo di Saturno un altro gruppo di angeli che sono i troni sono lo specchio della divina giustizia ma nonostante ciò il vostro reame voi anime giuste del cielo di Giove non apprendete la giustizia con velame cioè vedete senza un velo la giustizia perciò lo domando a voi dice Dante e poi aggiunge al verso 31 sapete come attento io mi apparecchio ad ascoltare sapete qual è quello dubbio che mi digiunco tanto vecchio cioè voi spiriti che formate l'Aquila sapete come mi sto preparando con attenzione ad ascoltare la vostra risposta sapete qual è quel dubbio che è per me un digiuno così vecchio che mi porto da così tanto tempo notate come tra il verso 31 e il 32 e tra il 32 e il 33 che sono appunto i versi che conformano la terzina nella quale Dante esprime la sua ansia di conoscere una risposta a questo lungo suo digiuno ci sono delle inarcature degli enjambemont che tensionano la lettura soprattutto quello molto violento quello dubbio che ci obbliga a leggere mantenendo in qualche modo la tensione tra la misura del verso e l'unità sintattica e allora finita questa richiesta di Dante che ha dato per scontato che l'Aquila sa che cosa vuole sapere lui l'Aquila al verso 34 esprime la gioia che gli provoca questa domanda di Dante e il Dante scrittore fa il primo dei paragoni con altri uccelli bellissimo in una similitudine per farci capire come reagì l'Aquila a questo suo quesito verso 34 dunque quasi falcone che esce del cappello muove la testa e con l'ali si plaud voglia mostrando e facendosi bello vi dio farsi quel segno che di laude della divina grazia era contesto con canti qual si sa chi la sugaude allora come un falcone che è appena uscito del cappello come al solito tutte queste sono immagini tratte dalla falconeria in cui diciamo il falconiere portava il falcone con un cappello che gli copriva la testa fino al luogo dove voleva farlo cacciare e allora Dante prende quel momento in cui il falcone essendosi appena liberato da questo cappello che lo teneva nel buio muove la testa e applaude quasi con le ali facendosi bello e mostrando la voglia che ha di volare ora che è libero in quello stesso modo dice Dante io vidi che quel segno dell'aquila si faceva quel segno che è conformato contesto da l'ode della divina grazia queste anime giuste che fa questo con canti cioè dimostra questa sua allegria con canti che non si possono conoscere se non si gode lassù in paradiso cioè quest'ultimo canto 39 tocca molto velocemente quasi sorvolandolo il topos dell'ineffabilità cioè con canti che non mi metto qui a descrivere perché si possono conoscere solo se si è in paradiso ora questa similitudine stupenda con il falcone è molto bella perché quest'immagine del cappello che si è levato e questa allegria che deriva dalla liberazione è come se ci stesse in qualche modo promettendo luce dopo il buio perché l'allegria di questo uccello deriva dal fatto che può vedere di nuovo e sa che potrà volare e quindi in qualche modo suggerisce una promessa di chiarimento dopo tanto tempo di essere al buio Dante rispetto a un argomento come ora vedremo quando sapremo qual è il dubbio di Dante così pregnante che è anche un dubbio che tutti noi lettori abbiamo almeno fin dall'inizio dell'inferno allora dopo diciamo farsi più bello e cantare con allegria l'aquila comincia un suo lungo discorso al verso 40 poi cominciò colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto non potè il suo valore si fare impresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso allora inizia l'aquila dicendo che Dio nominato attraverso una bellissima immagine che proviene dai proverbi e che Dante riprende nel convivio come una sorta di architetto di ingegnere che muove il compasso nella creazione tracciando i limiti dell'universo quindi colui che volse il sesto il compasso allo stremo del mondo e dentro ad esso cioè dentro la creazione distinse le cose occulte da quelle manifeste cioè quelle che l'uomo può capire da quello che non può capire Dio non poté imprimere il suo valore in tutto l'universo in modo da impedire che il suo verbo non rimanesse eccedente infinitamente cioè il valore infinito di Dio eccede necessariamente la creazione che è finita e quindi c'è una parte del verbo che non può essere conosciuta dall'essere umano anzi come ora vedremo dalla terzina successiva non può essere capita nemmeno dagli angeli e quindi c'è un sempre un eccesso nella mente divina rispetto alla capacità di comprensione anche delle creature più alte e quindi diciamo l'aquila che non ha ancora posto in parole il dubbio di Dante sta comunque avvertendo Dante noi lettori che l'argomento toccato dal suo problema probabilmente non lo potremo conoscere perché Dio eccede chiaramente con il suo valore la capacità di comprensione delle creature e come prova di questo fatto l'aquila al verso 46 aggiunge e ciò fa certo che il primo superbo che fu la somma ad ogni creatura per non aspettar l'ume cadde acerbo e quinci a par che ogni minor natura è corto ricettacolo a quel bene che non ha fine e se con sé misura cioè prova di questo cioè del fatto che il valore divino deborda dalla possibilità di concepire della creazione prova di questo è che Lucifero il primo superbo della storia molto prima che esistessero gli uomini cioè Lucifero che fu la somma ad ogni creatura perché era il più bello degli angeli e quello che più direttamente vedeva in Dio per non aspettar l'ume cioè per non avere la pazienza di aspettare e di persistere nell'accogliere la luce della grazia cadde acerbo cioè come noi l'abbiamo visto nell'inferno cadde dal paradiso nel centro dell'universo acerbo cioè immaturo immaturo cioè questo è un argomento che Dante nel De Volgaria Eloquenzia aveva trattato e cioè il fatto che gli angeli ribelli non ebbero la pazienza di aspettare l'illuminazione della grazia che sarebbe venuta anche in continuazione e che è stata data appunto agli angeli che furono fedeli a Dio che sono stati innalzati in grazia e capacità di visione mentre invece Lucifero cadde acerbo e il ragionamento dell'Aquila è tu Dante sei umano e stai scrivendo per esseri umani il tuo dubbio implica la volontà di sapere qualcosa che nemmeno l'angelo più bello poteva sapere quindi prova dell'insufficienza di tutte le creature per capire certe cose di Dio e appunto l'incapacità della più alta creatura perciò il verso 49 dice e 15 cioè da questo esempio di Lucifero appare evidentemente che ogni natura minore come siete voi umani per esempio è un ricettacolo un recibiente corto cioè insufficiente per accogliere quel bene che è infinito e che solo può misurarsi con se stesso che è appunto il bene di Dio da questo deriva questa conclusione al verso 52 l'aquila dunque vostra veduta che convene essere alcun dai raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene non può da sua natura essere possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che le è parvente allora dunque la vostra visione chiaramente qui veduta è metaforico per gli occhi della mente no? la vostra capacità di comprensione la vostra visione che è necessariamente solo uno dei raggi della conoscenza divina cioè della mente che riempie e deborda e cede tutte le cose non può di per sé per la propria natura di essere una creatura avere una tale potenza cioè essere possente tanto di nuovo attraverso un'inarcatura che il suo principio non possa discernere molto al di là di quello che gli appare manifestamente attraverso i sensi cioè che sta dicendo l'aquila la vostra mente con la quale tu Dante vuoi capire certe cose che chiaramente nemmeno un angelo può capire non è se non uno dei raggi della mente divina che è eccessiva e quindi come tale come un solo piccolo raggio non può conoscere molto al di là di quello di quello che Dio gli presenta come apparente e al verso cinquantotto già ci stiamo avvicinando al problema specifico di cui ha chiesto Dante cioè ha chiesto mentalmente no però nella giustizia sempiterna la vista che riceve il vostro mondo come occhio per lo mare entro sinterna che ben che dalla prota vege il fondo in pelago non vede e non di meno è lì ma c'è la lui l'essere profondo sopende immagine che dovevamo un po' aspettarci che se Dante sta domandando all'aquila simbolo dell'impero in Giove che è il cielo degli spiriti giusti il suo quesito è diciamo riguarda diciamo la giustizia e quindi l'aquila dice perciò cioè per il fatto che voi umani essendo creatori imperfette potete conoscere molto parzialmente le verità divine nella giustizia sempiterna cioè la giustizia che non avrà fine perché dipende da Dio che è eterno ma che ha avuto inizio perché chiaramente è cominciata con la creazione perciò sempiterna la vista che voi umani del vostro mondo ricevete si interna dentro la giustizia come l'occhio umano nel mare cioè come che benché quando è ancora nella proda e quindi il mare poco profondo vede veda il fondo il fondale in pelago cioè in alto mare aperto non lo vede il fondale e ciò nonostante è cioè esiste ma il fatto che il mare è così profondo lo cela cioè fa sì che l'occhio umano non lo possa vedere è un'immagine davvero molto bella e molto efficace perché rende in contemporanea l'indubitabile esistenza di una cosa che non vediamo perché è troppo profonda perché chiaramente eccede la nostra vista ma di cui possiamo comunque conoscere alcune manifestazioni e questo è rappresentato dal fatto che nella costa possiamo vederlo cioè che vuol dire l'aquila voi umani chiaramente i criteri di giustizia divina vi eccedono ma non totalmente vi eccedono nei casi di grande profondità alcune volte potete cogliere la giustizia divina nei fatti che si vedono quando è superficiale questa presenza vero vedete qua questa serie di inarcature di Jean Bémont che abbiamo notato di cui abbiamo notato alcuni tra il verso 62 e il 63 arriva diciamo al suo punto più crescente no e non di meno egli cioè nonostante questa apparente assenza quando siamo diciamo nel mezzo dell'oceano non possiamo vedere il fondo e ciononostante c'è la giustizia c'è ma siete voi che con la vostra corta visione non la vedete e l'aquila al verso 64 aggiunge una sorta di antidoto contro la superbia intellettuale cioè contro la pretesa degli umani di capire con le proprie forze ciò che non possono capire neanche gli angeli più altolocati lume non è se non vien dal sereno che non si turba mai anzi è tenebra o d'ombra della carne o suo veleno cioè non esiste luce cioè conoscenza se non quella che proviene da Dio cioè dal cielo che è sempre sereno e non si turba mai come l'empire appunto anzi la conoscenza che non proviene da Dio è tenebra cioè è pretesa falsa di conoscenza costruita dagli umani o d'ombra della carne quindi offuscata dal corpo umano o suo veleno cioè amor proprio che ci convince di una verità di cui ci siamo convinti insomma perché ci compiacciamo di credere che l'abbiamo scoperto da noi stessi questo è molto importante perché ricorda una concezione del sapere che è molto distante da quello odierno per cui la verità non è il prodotto di una costruzione sforzata di ogni essere umano bensì il frutto di un aprirsi alla verità divina per coglierla dentro di noi bene quindi è come se l'aquila prima ancora di dire qual è il dubbio di Dante stesse dicendo guarda che se ti sforzi di vedere con i tuoi propri occhi il fondo del mare è un veleno quello cioè è meglio accettare umilmente il limite e aprirsi alla verità di cui Dio si vuole diciamo essere compreso parzialmente dagli umani e allora al verso sessantasette ci avviciniamo al dubbio di Dante posto dalla voce di tutte queste luci che conformano l'aquila assai temò aperta la latebra che tascondeva la giustizia viva di che facei quest'ionco tanto crebra cioè adesso ti è aperta sufficientemente la tana la latebra che ti nascondeva la viva giustizia sulla quale tu avevi questa domanda così frequente crebra e latebra sono due latinismi che formano una rima cara no? le rime care sono quelle che sono molto diciamo infrequenti che è molto difficile trovare parole che rimino no? in ebra eh nell'italiano questo ve lo faccio notare perché diciamo avvicinandosi l'aquila con la sua voce al problema altissimo che si è posto Dante innalza pure lei lo stile e adorna di latinismi prestigiosi questo suo discorso e invece vedete come questo latinismo crebra che è in rima con la tebra questo stile molto aulico contrasta significativamente con la voce di Dante che riferisce leggendo in Dio l'aquila no? è interessante perché è come se l'aquila volesse anche dal punto di vista dei diversi registri che usa indicare anche la distanza che c'è tra diciamo la la pochezza dell'intelletto umano e l'altezza del del concetto di giustizia divina che lei rappresenta perché immediatamente dice che tu dicevi no? viene da dire adesso la latebra cioè la tana che ti nascondeva la giustizia ti è aperta abbastanza cioè hai già capito che non potrai capirla già che tu dicevi e vedete che ora lo stile si abbassa moltissimo è molto colloquiale lo stile che attribuisce l'aquila alla voce di Dante un uomo nasce alla riva dell'indo e qui vi non è chi ragioni di Cristo né chi legga né chi scriva e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede senza senza peccato in vita o in sermoni muore non battezzate senza fede ov'è questa giustizia che il condanna ov'è la colpa sua se non crede dunque la domanda di Dante a differenza di quello che diceva l'aquila prima è molto facile da capire no è posta no con parole spiazzanti cioè un uomo nasce in India cioè quello che per Dante è l'estremo orientale del mondo e lì qui vi non c'è nessuno che parli di Cristo che ragioni di Cristo né chi legga legga vuol dire far lezione cioè né chi faccia un corso e possa educare su Cristo né chi scriva cioè non gli arrivano notizie dell'esistenza di Cristo né orali né scritte tutti i suoi voleri e atti cioè sia nei suoi desideri che nei suoi atti è buono e qui Dante fortunatamente letto diciamo nella mente di Dio dall'aquila almeno mette questo inciso quanto ragioni umana vede cioè per quel che riguarda la comprensione umana quest'uomo è perfettamente buono nella mente e negli atti senza peccato in vita o in sermoni senza agire male né parlare male quindi è un uomo perfetto della perfezione che abbiamo conosciuto nel nobile castello del limbo vi ricordate che nel canto ventitresimo del purgatorio in un dialogo con Stazio Virgilio raccontando a Stazio del nobile castello del limbo aveva affermato questa questa verità dantesca che è difficile teologicamente da sostenere secondo cui le anime dei pagani che sono nel limbo hanno seguito le quattro virtù cardinali perfettamente e cioè anche essendo nati ovviamente dopo il peccato d'Adamo sono stati perfetti eticamente vero ma noi sappiamo benissimo che loro come anche Virgilio stesso sono esclusi dalla visione beatifica perché non hanno avuto fede cristiana vero allora quest'uomo che sta qui proponendo Dante no che nasce sulla riva dell'indo e che quindi diciamo è un infedele negativo per motivi geografici più che storici come quelli che abbiamo visto invece nel primo cerchio dell'inferno continua Dante al verso cioè Dante citato dall'Aquila muore non battezzato e senza fede questo verso non ha bisogno di parafrasi dove dice Dante la giustizia che lo condanna cioè che razza di giustizia è che un uomo totalmente buono che non ha potuto conoscere Cristo in alcun modo sia nell'inferno dove è la sua colpa se non ebbe fede domanda Dante va bene vedete che Dante comunque in paradiso non può peccare questo suo dubbio è umanissimo ed è formulato in termini comunque rispettosi non è che dice non è che si ribella e dice è ingiusto no la giustizia divina è ingiusta sbaglia no perché Dante insomma questa questa sua condizione di peccatore così grave l'ha già superata almeno circostanzialmente quello che domanda è dov'è la giustizia come dicendo io so che è giusto se Dio lo vuole così ma spiegatemi come funziona questa giustizia che colpa ha lui di non credere se è nato in un posto dove nessuno conosce il cristianesimo qualcuno di voi chiede un commento di ripetere immagino quello che avevo detto sulla rima la tebra crebra cioè avevo notato innanzitutto che si tratta di due latinismi quindi di queste parole che Dante prende direttamente diciamo dal serbatoio del latino e italianizza incrustandoli in mezzo al fiorentino prevalente del suo testo e avevo notato che è una rima cara insieme a Tenebra che è la terza rima che riprende queste due terminazioni Nebra commentavo la rima cara è questa rima diciamo che ha molti suoni che debbono coincidere che non sono suoni usuali del sistema fonico dell'italiano diciamo la rima cara è si oppone alla rima facile una rima facile che Dante non usa mai del resto è una è per esempio una rima in are o una rima in ato cioè nell'infinito o nel participio regolare per cui ce ne sono tantissime di parole che possono diciamo rimare avevo commentato questa cosa perché è evidente come avvicinandosi al problema altissimo o profondissimo della giustizia divina l'Aquila innalzasse lo stile adornandolo di queste di questi preziosismi e come invece abbassi lo stile nel porre la domanda diciamo che che ora che ora taccerà in qualche modo di ingenua da parte del povero Dante no? Come come se questa questo stile aulico ricercato dell'Aquila contrastasse con quello umano rendendo la distanza tra il concetto cui Dante vuole accedere e le sue possibilità umane non so se ora è più chiaro bene la persona che aveva chiesto non so se è svenuta o va bene ecco grazie Germán bene allora andiamo avanti Dante appena chiesto in realtà l'Aquila appena posto in discorso diretto quello che sa attraverso Dio che Dante vuole sapere e cioè come mai uno che per il fatto di essere nato agli estremi del mondo e non ha potuto conoscere Cristo perché è giusto che quella persona sia nell'inferno e allora al verso settantanove l'Aquila risponde a queste parole che lei stessa aveva pronunciato che sono nella mente di Dante or tu chi sei che vuoi sedere a scranna per giudicar di lungi mille miglia con la veduta corta di una spanna cioè la prima cosa che fa l'Aquila attraverso una domanda retorica è accusare Dante di voler salire in cattedra per giudicare qualcosa che accade a mille miglia avendo invece la vista corta di un palmo allora come pretendi di capire anzi di giudicare no perché sedere a scranna è come dice appunto al verso 80 diventare giudice è come è come se l'Aquila stia rimproverando a Dante il fatto di volersi mettere al livello di un giudice quando non è capace nemmeno di capire le cose che stanno succedendo qua vicino vero? questa è una diciamo una delle idee che percorrono gran parte del il polgatone del paradiso c'è la volontà del Dante scrittore di immunizzare noi lettori dalla pretesa di emettere giudizi non essendo in grado di farli però i giudizi e subito dopo questa risposta che avrà spiazzato il povero Dante al verso 82 riprende l'Aquila certo a colui che me cosa sottiglia se la scrittura sopra voi non fosse di dubitar sarebbe a maraviglia cioè è vero che chi vuole pensare sottilmente su di me dice l'Aquila che rappresenta la giustizia cioè è vero che se voi mortali voleste capire qualcosa su di me giustizia se non ci fosse la scrittura che vi guida sarebbe davvero sorprendente senza una guida considerare la giustizia divina vero? Questa è un'idea che Dante aveva anche detto nella monarchia cioè che sono le scritture quelle che guidano l'uomo nell'umiltà di accettare il mistero senza voler capire tutto e accettando che la giustizia divina se proviene da Dio è buona e bisogna accettarla senza avere la pretesa di capirla e aggiunge al verso ottantacinque l'aquila o terreni animali o menti grosse cioè o uomini che vivete nella terra come gli altri animali menti ottuse che non sanno capire le cose sottili vedete come si oppone l'immagine del sassottiglia verso ottantadue no? con grosse del verso ottantacinque entrambe metafore di qualcosa che è molto fine sottile di qualcosa che è troppo grosso appunto che sono entrambe metafore diciamo usuali cristallizzate della capacità di comprensione no? quando uno dice questo è questo è un ragionamento molto sottile vero? certo la persona che ha la mente grossa come cui ci sta accusando l'aquila di avere non può rendersi sottile vero? e aggiunge al verso ottantasei la prima volontà che è da sé buona da sé che è sommo ben mai non si mosse cioè la volontà di Dio che è la prima volontà che è buona di per sé non si allontana mai da sé stessa che è sommo bene quindi la volontà divina non può mai desiderare qualcosa di non buono non si allontana mai dalla bontà prima che è lei stessa tanto è giusto quanto a lei consuona cioè tutto quanto è giù è giusto cioè tutto quello che è consono a lei è giusto cioè la giustizia divina è coincidenza con la bontà quindi stare assicurando Dante questo fondo del mare che voi non vedete è infinitamente buono fidatevi che c'è e che se deriva da Dio non può che essere buono quindi per per riprendere l'argomento dell'indiano che preoccupava Dante è come se stesse dicendo intanto ha detto tu con la vista di un palmo vuoi giudicare di mille miglia cioè vuoi vedere il fondo del mare essendo così miope fidati che la giustizia c'è come c'è il fondale e che derivando da Dio è necessariamente buona anche se tu non lo capisci chiaramente e al verso 89 nullo creato bene a se la tira ma essa radiando lui cagiona cioè nessun bene creato quindi nessuna creatura la attrae a sé cioè condiziona la prima volontà di Dio ma essa la prima volontà irradiando è causa di ogni bene creato la cagiona quindi nessuna creatura può condizionare la giustizia divina e dopo aver detto questo al verso 91 l'Aquila celebra insomma e anche Dante che è stato diciamo non esattamente chiarito ma almeno ha ricevuto una risposta che intende essere soddisfacente la guarda diciamo con gratitudine e questo si dice attraverso questa stupenda doppia similitudine prima l'Aquila era stata paragonata a un falcone che si libera dal cappello ora è paragonata invece a una cicogna al verso 91 quale sovresso il nido si rigira poiché appasciuti la cicogna ai figli e come quel che è pasto la rimira cotal si fece e si leva ai licigli la benedetta immagine che l'ali muovea sospinte da tanti consigli cioè così come la cicogna che ha già dato da mangiare ai figli vola girando sopra il nido e come i figli che sono stati appena saziati la contemplano chiaramente grati dell'alimento che hanno ricevuto così si fece lei l'Aquila e così io come un cicognino appena alimentato dice Dante levai gli occhi e così si fece l'immagine benedetta che muoveva le ali sospinte da così tante volontà quindi l'Aquila inizia a volare dal mossa dalle luci che sono le volontà dei salvati e guardate che fa l'Aquila ora didatticamente al verso 97 roteando cantava e dicea quali sono le mie note a te che non le intendi tale il giudice eterno a voi mortali cioè girava roteava mentre volava e cantava una musica dal testo incomprensibile a Dante ma ogni tanto diceva probabilmente come ritornello così come tu non puoi capire la musica mia così voi mortali non potete capire il giudizio eterno cioè sta dicendo tu Dante senti che io canto ma che canto note che tu non puoi capire ma sai che canto beh così voi mortali non potete capire la giustizia ma sapete che c'è e sapete è sottointeso dalla metafora che è una musica cioè che è dolce la giustizia però e allora al verso 100 poi si quietarono cioè una volta che si quietarono quei lucenti incendi dello spirito santo cioè quei quelle luci accesi dallo spirito ancora nel segno che fa i romani al mondo reverende cioè di nuovo conformando il segno dell'aquila romana che fece Roma riverita davanti al mondo cioè una volta di nuovo dopo aver volato ricomposta come prima l'aquila come immagine esso cioè il segno ricominciò a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo né pria né poi che il si chiavasse al legno allora l'aquila riconferma il carattere essenziale necessario della fede cristiana per andare in paradiso però lo dice in un modo interessante dice a questo regno chiaramente il paradiso non salì mai chi non credette in Cristo chi non ebbe fede in Cristo né prima perché chiaramente i giudei credevano in Cristo prima che egli venisse al mondo in attesa del Messia e né poi che lui si chiavasse alla croce cioè né dopo il cristianesimo quindi la fede cristiana è diciamo imprescindibile questo diciamo che sta dicendo l'aquila è pacifico diciamo lo sa chiunque qualsiasi cristiano sa che la fede cristiana qualsiasi cristiano cui Dante si rivolgeva nel medioevo diciamo accettava questa cosa ora mettendo la parola Cristo in posizione di rima ci aspettiamo come le altre tre volte in paradiso che rimi solo con Cristo manifestando il carattere impareggiabile no della sua figura e al verso 106 inizia però una eccezione diciamo una eccezione possibile del giudizio finale rispetto alla realtà che Dante sta vedendo nell'aldilà e non a caso è un lungo periodo questo del discorso dell'aquila che inizia con un ma con un avversativo e infatti a partire da qui l'aquila cambia tono per annunciare indignata che molti che si dicono cristiani in realtà non lo sono e non vedranno aprirsi a loro il regno della salvezza quindi al verso 106 l'aquila aggiunge ma vedi molti gridano Cristo Cristo che saranno in giudizio assai men proprie a lui che tal che non conosce Cristo cioè ma vedi no perché la domanda di Dante era perché se questo che non ha la colpa di non aver conosciuto Cristo è nell'inferno e l'aquila dice guarda che molti che si riempono la bocca di Cristo nel giudizio finale il giudizio finale saranno meno vicini meno proprie a Cristo e rispetto a qualcuno che non conosce Cristo e qui Dante diciamo nella bocca dell'aquila sta dicendo qualcosa di abbastanza sconvolgente perché non sta dicendo guarda che non tutti quelli che si dicono cristiani lo sono gli ipocriti andranno a finire in inferno e i sinceri qua no l'aquila dice molti che dicono Cristo Cristo saranno lontani da Dio molto diciamo meno vicini di qualcuno che non conosce Cristo che non conosce Cristo quindi sta dicendo a Dante guarda che il tuo bravo indiano di cui ti preoccupi non è detto che il giorno del giudizio finale Dio non lo scelga per stargli accanto perché Dio nella sua onnipotenza e nella sua insondabile giustizia e misericordia nel giudizio finale può decidere come gli pare e anche quello che tu credi che sia una verità può essere sovvertito e al verso 109 appunto diciamo a proposito di questo uomo che nacque in India nomina l'Etiope no l'Aquila e tai cristian dannerà l'Etiope quando si partiranno i due collegi l'uno in eterno ricco e l'altro inope cioè alcuni cristiani saranno danneggiati dall'Etiope quando le due comunità si apriranno no? secondo l'Apocalisse insomma in due collegi no? in due in due gruppi l'uno cioè l'Etiope ricco eternamente perché avendo guadagnato la vita eterna e l'altro inope cioè povero per sempre e dopo questo riprendendo questa immagine dell'Apocalisse del libro insomma dove si scriveranno tutti i difetti degli uomini l'Aquila a proposito dell'Etiope questa volta con diciamo la categoria del persiano l'Ipers comincia l'idea secondo cui gli infedeli potranno addirittura indignarsi dei governanti cristiani da come si stanno comportando infatti lo dice così al verso 112 che che porranno dirgli persa ai vostri reggi come vedranno quel volume aperto nel quale si scrivono tutti i suoi dispregi cioè che potranno dire i persiani infedeli chiaramente non cristiani ai vostri re e adesso ho più inteso chiaramente re cristiani non appena non appena vedranno quel libro aperto nel quale saranno scritti si stanno scrivendo tutti i suoi mali cioè tutti i loro disprezzi le loro cattive azioni e al verso 115 l'Aquila inizia un lungo discorso in cui diciamo come se stesse diciamo leggendo in anticipo il libro che ci sarà il giudizio finale e leggesse tutte le azioni dei re cristiani peccatori attraverso diciamo un elenco di personaggi che complementa in qualche modo l'elenco dei re che erano nel purgatorio nella valle che si descrive nel canto settimo vi ricordate che Sordello mostra a Dante Virgilio questi re che sono preoccupati perché i loro figli faranno cose disastrose no bene qui arriva diciamo la descrizione delle azioni di quella generazione che i re che erano in purgatorio guardavano con preoccupazione e angoscia e l'aquila nel parlarne inizia tre terzine la cui prima parola è lì altre tre che cominciano al verso centoventiquattro la cui prima parola è vedrassi e poi al verso centotrentasei anzi centotrentatré di nuovo questa anafora con e e e e questo diciamo questa ripetizione della L della V che si pronuncia U in latino vero e della E conformano quest'acrostico lui che in latino vuol dire peste flagello come se tutte le storie di re che si nominano qua conformassero la pestilenza del mondo vi ricordate che Dante si era già servito di una strategia simile quando nel dodicesimo del purgatorio nel descrivere gli esempi di superbia punita che sono diciamo graficati sul suolo della prima cornice del purgatorio aveva formato la parola uom caratterizzando appunto l'umanità come particolarmente superba allora al verso centoquindice l'aquila lì si vedrà lì è nel libro il volume aperto del verso centotredici lì si vedrà tra l'opera ed alberto quella che tosto muoverà la penna perché il regno di praga fia diserto questo alberto è appunto l'alberto tedesco del canto sesto del purgatorio quello degli ausburgo vero che tra un po' tra il 1303 e il 1304 invaderà il regno di boemia e vi lascerà cioè lascerà a praga il figlio roberto come re rodolfo scusate come re e sarà appunto la distruzione di praga quindi ciò che dice qua l'aquila è che in quel volume si leggerà tra le diverse opere sempre cattive di alberto primo d'ausburgo quell'opera che farà sì che si muova la penna sul libro per cui il regno di praga sarà distrutto e poi al verso 118 lì si vedrà il duol che sovrasenna induce falseggiando la moneta quel che morrà di colpo di Codenna questo cui si allude Filippo il Bello sapete questo re di Francia mai nominato nella commedia ma di cui insomma si sparla in molte occasioni attraverso perifrasi molto insultanti e quello se non altro Filippo il Bello che secondo l'unanimità dei commentatori è rappresentato da questo gigante che si porta via la puttana nell'Eden in questa in questa scena terribile di cui Dante è testimone vero nel paradiso terrestre quindi questo re che prostituisce la chiesa portandosela da Vignon influenzandola quindi è questo Filippo il Bello che quindi indurrà cioè provocherà dolore a Parigi sovra il Seine falseggiando la moneta questo diciamo era una delle cose che Dante rimproverava alla Casa di Francia il fatto di coniare monete di un valore minore a quello richiesto per diciamo spesare le guerre diciamo cui erano impegnati che si fa la profezia della sua morte morirà di colpo di Codenna Codenna è la pelle del maiale che qui mettonimicamente sta nominando il cinghiale infatti nel 1314 secondo quello che ci raccontano le cronache Filippo il Bello morirà quando stava andando a caccia perché il suo cavallo è stato colpito da un cinghiale e al verso 121 lì si vedrà la superbia che asseta che fa lo scotto e l'inghilese folle sì che non può soffrire dentro a sua meta cioè lì sempre nel libro si vedrà la superbia che rende assetati quindi desiderosi bramosi lo scotto e l'inghilese non si è del tutto sicuro chi siano ma probabilmente lo scotto è Robert Bruce e l'inghilese Edoardo I dei plantageneti ma qui quello che ci interessa è visto che l'Aquila che rappresenta l'impero quella che sta parlando l'accusa a questi re del fatto che sono talmente superbi e assetati di terre che nessuno può tollerare di essere dentro i propri confini perché dico che è significativo perché quello di cui si sta lamentando l'Aquila è del fatto che la cupidigia dei re provochi le guerre perché tutti desiderano più terre di quante ne hanno che è appunto questa cupidigia una delle giustificazioni secondo il Dante autore della monarchia della soluzione monarchica cioè Dante pensa come soluzione a queste guerre appunto la presenza providenziale di un imperatore super partes privo di cupidigia visto che sotto la sua giurisdizione ci sono tutte le terre e qui è significativo come Dante dall'Italia perché il discorso con cui si riallaccia questo è quello appunto ai serva Italia di Dolore Ostello vero? che aveva fatto sordello e aveva fatto in realtà Dante stesso come digressione dopo l'abbraccio tra sordello e Virgilio a proposito della patria comune Mantova vero? ma lì tutto il discorso di Dante anche contro il re tedeschi era rivolto all'anelito di un'Italia unita in pace ma qua come stiamo già vedendo da questi versi il discorso va oltre l'Italia perché sta parlando di Praga sta parlando di Parigi adesso sta parlando dell'Inghilterra e quindi l'Aquila non a caso è quella che dovrebbe avere giurisdizione su tutto il mondo popolato rende tutto il suo discorso europeo non più italiano come era appunto nel Purgatorio questo elenco di re malvaggi vero? e infatti sempre sempre a proposito della Bohemia e della Spagna in questo caso al verso 124 cominciano le terzine con vedrassi vedrassi la lussuria e il viver molle di quel di Spagna di quel di Bohemme che mai Valor non conobbe ne volle il lussurioso e il vivere molle diciamo di facili costumi è Ferdinando IV di Castiglia cioè quello di Spagna quello di Bohemme Venceslao II di Bohemia il cui padre Otoccaro si lamentava nel Purgatorio VII di questo suo figlio terribile che gli era nato che come si dice qua non conobbe mai ne volle avere un valore avere virtù e adesso al verso 127 vedrassi al ciotto di Gerusalemme segnata con un I la sua bontate quando il contrario segnerà un M qui interessante no? perché siccome sta parlando del libro dove si vedranno queste storie dice che lì si vedrà il ciotto il ciotto è diciamo quello che cammina male no? di Gerusalemme chiamato in un modo sarcastico questo è Carlo II d'Angio no? re di Napoli Puglia che aveva ottenuto anche questo titolo un po' ridicolo di re di Gerusalemme e Dante gioca diciamo con la prima parola la prima lettera di Gerusalemme che essendo una I latina e anche un 1 romano e la M del finale che è anche il numero 1000 in romano e quindi dice che la bontà di Carlo II di Napoli sarà segnata con una I cioè con la lettera iniziale di Gerusalemme ma il contrario cioè le sue cattiverie saranno segnate da un M cioè da 1000 che ne ha fatte e al verso 130 vedrassi l'avarizia e l'aviltate di quei che guarda l'isola del foco ove anchise finire a lunga etate e ad aria di intender quant'è poco la sua scrittura fian lettere mozze che noteranno molto in parvoloco di nuovo Dante si riferisce proprio alla materialità delle lettere con cui si scrive questo libro e dice che si vedrà l'avarizia e l'aviltà di quello che regna in Sicilia nominata come l'isola del fuoco a causa dell'Etna dove Anchise finì i suoi lunghi anni Anchise il padre di Enea vero? Questo è Federico II d'Aragona anch'esso nominato appunto all'uso nel settimo del purgatorio che era appunto re di Sicilia tra il 1296 e il 1337 se non sbaglio e che appunto fece così brutte opere che dice Dante al verso 133 per dare a intendere quanto è poco cioè quanto poco vale la scrittura su di lui sarà fatta in lettere mozze cioè lettere tagliate scritte a metà che noteranno molto in poco luogo cioè come dicendo la pagina non basterebbe a scrivere tutte le ignominie che ha fatto e quindi in quella parte il libro sarà scritto con mezze lettere affinché in poche pagine possano entrare tutti i malfatti di questo qua e al verso 136 e parranno a ciascun l'opere sozze del barbe e del fratello che tanto egregia nazione due corone hanno fatte bozze allora e appariranno a tutti perché il giudizio finale quindi tutti potranno leggere questo libro le opere sporche cioè immorali dello zio e del fratello che una tanto importante nazione e due corone hanno fatte bozze vuol dire hanno cornificato cioè fare qui veramente il registro si abbassa moltissimo perché bozze è dire cornuto a qualcuno in una lingua veramente molto colloquiale infatti è una parola che appare nella tensione tra Dante e Forese Donati e quindi è come dire corrompere adulterare le corone qui sono questi il barba e lo zio Giacomo il re di Maiorca e Giacomo secondo di Aragona che hanno rovinato appunto due corone e al verso 139 e quel di Portogallo e di Norvegia lì si conosceranno cioè in questo libro si conosceranno il re sempre cristiano di Portogallo Dionigi l'Agricola e quello di Norvegia che è questo acone quinto di cui si parla anche nel settimo del Purgatorio e quel di Rascia che è Stefan Urosio re di Kosovo diciamo che mali ha visto il cone di Vineggia che ha cercato di falsificare il matapan cioè la moneta veneziana con brutte conseguenze quindi tutta tutta questa lista diciamo di re cristiani svolgono questa funzione di contrastare la bontà ineccepibile di questo che non conosce Cristo e di cui Dante domanda perché non è salvo con questi cristiani che invece di comportarsi come tali saranno nell'inferno e quindi è come se l'Aquil in tutto questo discorso stesse dicendo prima ha detto a Dante tu non puoi giudicare ma poi ha detto guarda che le cose possono non essere come tu credi perché quelli che si dicono cristiani possono essere derisi da l'Etiope il Persiano quelli che apparentemente sono infedeli e al verso centoquarantadue l'Aquila sempre in riferimento al malgoverno francese fa questa considerazione o beata Ungheria se non si lascia più malmenare dai francesi cioè se si libera dal governo francese il che non accadrà comunque e beata Navarra se s'armasse del monte che la fascia cioè se evitasse facendosi dai monti di essere anessi dalla Francia e crederde ciascun che già per Arra di questo nicosie famagosto per la loro bestia si lamenti e garra che dal fianco dell'altre non si scosta e cioè e ciascuno deve credere che già ora nel 1300 mentre sta avendo il dialogo qua mentre tra Dante e l'Aquila per Arra Arra e Caparra no? anticipo di questo cioè della brutta fine che faranno Ungheria e Navarro sotto il governo dei francesi sono già Arra e Caparra anticipo di questo i lamenti e le grida di Nicosie e Famagosta che sono due città importanti di Cipro che stanno già lamentandosi del loro re Enrico II di Lusignano crudele e terribile anche lui francese la loro bestia infatti è questo Enrico che non si scosta cioè non si separa dalle altre bestie cioè che è uguale a tutti gli altri re apparentemente cristiani francesi che hanno nominato prima francesi ma anche inglesi spagnoli portoghese eccetera quindi vedete come questo è un canto veramente bellissimo e strano no? perché l'Aquila prima ha risposto a una domanda di Dante molto profonda che è una domanda che poi ci facciamo anche noi diciamo lettori circa l'apparente ingiustizia della esclusione dalla beatitudine di anime buone che non hanno la colpa di non aver avuto fede cristiane e dopo tutto questo discorso così pieno di belle immagini similitudini quella del falcone della cicogna quello del profumo unico che viene fuori da tutti questi fiori eterni del calore unico che viene fuori dalle braccia no? tutta una parte veramente lirica dell'inizio del canto di fronte a questa a questo dubbio di Dante l'Aquila diciamo comincia queste invettive politiche sul mondo popolato che in qualche modo avvertono Dante noi lettori che questa divisione tra cristiani e buoni non cristiani nel giudizio finale può essere diverso da quello che prevediamo e infatti come vedremo la settimana prossima nel canto ventesimo ci saranno alcuni eventi che illustrano questo carattere insondabile non solo della giustizia ma anche della misericordia divina che salva personaggi del tutto impensati da Dante quindi il canto che leggeremo la settimana prossima in qualche modo è ancora collegato all'episodio che nasce qua lo rileggiamo parea che io vedi e anche udì parlar lo rostro e suonar nella voce e io e mio quando era nel concetto e noi e nostro e cominciò per esser giusto e pio sono io qui esaltato a quella gloria che non si lascia vincere a desio e in terra lasciai la mia memoria si fatta che le gentili malvagie commendan lei ma non seguo la storia così un sol calor di molte braggie si fa sentire come di molti amori usciva solo un suon di quella immagine ondio appresso o perpetuo i fiori dell'eterna letizia che pur uno parermifate tutti i vostri odori solvetemi ispirando il gran digiuno che lungamente mi ha tenuto infame non trovandogli in terra cibo alcuno ben so io che se in cielo altro reame la divina giustizia fa suo specchio che il vostro non la prende con velame sapete come attento io m'apparecchio ad ascoltar sapete qual è quello dubbio che me digiunco tanto vecchio quasi falcone che esce del cappello muove la testa e con l'ali si plaude voglia mostrando e facendosi bello vidio farsi quel segno che di laude della divina grazia era contesto con canti quai si sa chi la so gaude poi cominciò colui che volse il sesto allo stremo del mondo e dentro ad esso distinse tanto occulto e manifesto non poté suo valore si fare impresso in tutto l'universo che il suo verbo non rimanesse in infinito eccesso e ciò fa certo che il primo superbo che fu la somma ad ogni creatura per non aspettare l'uomo cadde acerbo e quindi ci apparca ogni minor natura e corto recettacolo a quel bene che non ha fine e se con sé misura dunque vostra veduta che convene essere alcun dei raggi della mente di che tutte le cose sono ripiene non può da sua natura esser possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che le è parvente però nella giustizia sempiterna la vista che riceve il vostro mondo com'occhio per lo mare entrosi interna che ben che dalla proda veggia il fondo impelago non vede e non di meno è lì ma c'è la lui l'essere profondo l'uomo non esse non viene dal sereno che non si turba mai anzi è tenebra o d'ombra della carne o suo veleno la sai temo aperta la lattebra che tascondeva la giustizia viva di che facei question con tanto crebra che tu dicevi un uomo nasce alla riva dell'indo e qui vi non ecchi ragioni di Cristo né chi legga né chi scriva e tutti i suoi voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede senza peccato in vita o in sermone muore non battezzato e senza fede ov'è questa giustizia che il condanna ov'è la colpa sua se non crede or tu chi sei che vuoi sedere a scranna per giudicare di lungi mille miglia con la veduta corta ad una spanna certo a colui che me cosa sottiglia se la scrittura sopra voi non fosse da dubitare sarebbe a maraviglia o terreni animali o menti grosse la prima volontà che è da sé buona da sé che è sumo ben mai non si mosse cotanto è giusto quanto a lei consuona nullo creato bene a sé la tira ma essa radiando lui cagiona quale sovresso il nido si rigira poiché appasciuti la cicugna i figli e come quel che è pasto la rimira cotal si fece e si levai i cigli la benedetta immagine che l'ali muovea sospinte da tanti consigli roteando cantava e dice a quali sono le mie note a te che non li intendi tal è il giudicio eterno a voi mortali poi si quietaro coi lucenti incendi dello spirito santo ancor nel segno che fa i romani al mondo reverendi esso ricominciò a questo regno non salì mai chi non credette in Cristo né pria né poi che il si chiavasse al legno ma vedi molti gridano Cristo Cristo che saranno in giudicio assai ben proprio a lui che tal che non conosce Cristo e tai cristian dannerà l'Etiope quando si partiranno i due collegi l'uno in eterno ricco e l'altro inope che porranno dirgli persi ai vostri reggi come vedranno quel volume aperto nel quale si scrivono tutti i suoi dispregi lì si vedrà tra l'opere d'Alberto quella che tosto muoverà la penna perché il regno di Praga fia deserto lì si vedrà il duol che sovrasenna induce falseggiando la moneta quel che morrà di colpo di godenna lì si vedrà la superbia che asseta che fa lo scotto e l'inghilese folle sicché non può soffrire dentro a sua meta vedrassi la lussura il viver molle di quel di Spagna di quel di Bohemme che mai valor non conobbe ne volle vedassi al ciotto di Gerusalemme segnata con un i la sua bontate quanto il contrario segnerà un emme vedrassi l'avarizia e l'aviltate di quel che guarda l'isola del foco dove anch'ise finì la lunghetate e a dare ad intender quant'è poco la sua scrittura fian lettere mozze che noteranno molto in parvo loco e parranno a ciascun l'opere sozze del barbe del fratel che tanto egregia nazione due corone ha fatte bozze e quel di Portogallo e di Norvegia lì si conosceranno e quel di Rasch che male ha visto il conio di Vineggia o beata Ungheria se non si lascia più malmenare e beata Navarra se s'armasse del monte che la fascia e creder de ciascun che già per arra di questo nicossie famagosta per la lor bestia si lamenti e garra che dal fianco dell'altre non si scosta grazie dell'attenzione ci vediamo la settimana prossima